La collaborazione fondamentale tra il risparmio e l'economia reale diventano ormai una strada a cui non si può più rinunciare. Solo la capacità privata di investire e di credere nell'economia reale è quella che ci consentirà di far ripartire l'economia in maniera seria e di far crescere i nostri risparmiatori da un lato, ma soprattutto anche l'economia reale che ha bisogno di capitali, ha bisogno di crescere, di crescere dimensionalmente e di poter continuare a competere con le principali aziende europee e mondiali e quindi noi siamo convinti, sono convinto che gli strumenti che si stanno via via delineando a vantaggio dei risparmiatori faciliteranno molto questo percorso virtuoso e quindi incrementeranno molto la capacità delle nostre imprese di essere sempre più leader nei settori dove lo sono già ma anche in quelli dove lo potranno diventare.